Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo secondo appuntamento con il Volkswagen T1, il leggendario Rivivi il mito degli anni 50 e 60, la seconda uscita 4,99, ruota anteriore sinistra. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi di continuare a contribuire a dar vita a questo misero ma onesto canale. Grazie a tutti ragazzi, ringrazio anche tutti quelli che hanno sottoscritto l'abbonamento perché mi danno un aiuto concreto per cercare di rimanere ancora aperto come canale e grazie ancora. Se avete piacere iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non solo di come lo possiamo formare questo, è un super van bellissimo, considerando gli anni in cui è uscito, è stato fatto. Vedete, stavo dicendo una cosa e mi sono perso. Comunque se avete piacere di farvi costruire il vostro modello potrete contrattarmi privatamente, grazie. Io non so se farò questa collezione, sono 120 uscite, ne ho già diverse in cantiere, lo sapete, se mi seguite almeno chi mi segue lo sa. Mi piacerebbe tanto farlo perché è bellissimo anche questo. Il peso totale, ma a me poco importa questo, è una notizia che vi avevo dato comunque anche nella prima uscita, è di 8 kg. Le misure sono 53,5 cm di lunghezza per 22,5 cm di larghezza con un'altezza di 24,5 cm. Non lo so se lo farò, penso più no che sì, perché per quello che vi ho appena detto ho troppe cose in cantiere, almeno per me sono già veramente tante. Eccola qui, ruota anteriore sinistra. Mi piace molto questa borchia, è veramente bella e poi è una calamita che grazie alla vite che poi verrà messa per tenere fermo il cerchione con la sua ruota al mozzo. Vedete? Fungerà anche da metallo per il bagnete, quindi rimarrà ferma. Eccolo qui, io ho già fatto, mi sono già creato il filetto, vedete? Ed è potente, eh? Bella. Poi qua sono state riprodotte le ganasce con i pistoncini, le molle per il ritorno delle ganasce, quando i pistoncini sotto la spinta dell'olio spingono le ganasce, le allargano all'interno del tamburo e questo chiaramente crea trito determinando la frenata. Quando si lascia il pedale, il pistoncino torna indietro grazie alle molle che sono state estese. Allora, noto con piacere che il consiglio tecnico non è solo più quello di immergere nell'acqua calda, che ve lo sconsiglio, ma è quello di usare un fond ed è questo che dovete fare. Volevo farvi una domanda se potete rispondermi. Io ho trovato che questo copertone è veramente stampato male. Qui va benissimo, però non so se anche voi vedete qui praticamente si legge, ma si legge poco. Da questa parte è invece proprio stampato male, vedete grossolano. qui non si legge assolutamente nulla, qui anche è brutto, però l'importante è che sia buono da una parte. Fatemi solo sapere, grazie. Bene, come vi ho appena detto, sono andato a vitarmi in una delle due viti, una è sempre data in più qui, nel metallo, questo è metallo, questa è plastica, 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 questa invece è metallo. La parte esterna è in metallo, la parte interna è in plastica. La prima cosa che vado a fare con un fond vado a scaldarmi il copertone. Adesso metto la pausa e ci vediamo dopo. Bene, è stato scaldato. Adesso guardo qual è la parte più bella ed è questa e inserisco. è meglio farlo così. Almeno se dobbiamo anche segnare il copertone lo segniamo all'interno e non quello che dobbiamo vedere bello subito. Questo va all'interno e chi lo vede. Scusate ragazzi che io non ho la mano destra più che funziona tanto a causa del tunnel carpale. Devo ancora farmi visitare ma so già essere quello e quindi ho perso la sensibilità e mi viene tutto difficile. Le cose che per me sono semplicissime e che prima lo erano anche per me non lo sono più. Ma d'altronde funziona così. Quando una cosa si riesce a fare, si riesce a farla. È facile e poi diventa tutte differenti insomma. Guardate quanto ci sto mettendo. sì. Ha... 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 Sì Che non è difficile se la mano funziona. Ragazzi avete pazienza, non ce la faccio, devo metterla a pausa. Scusatemi, volevo farvela vedere come di solito faccio nei video. Chi mi segue lo sa, ma purtroppo non ce la faccio. Ci vediamo dopo. Ecco qua, perché inserirla una volta che avete scaldato è tutt'altro che difficile. Non è affatto difficile, però come vi ho detto prima, per me adesso lo è. Allora, poi... Qui abbiamo un perno piccolo e un perno grande, di conseguenza un foro piccolo e un foro grande. Ecco qui. Qui abbiamo uno scasso. Si è spento l'anello luminoso. Ecco. Che va inserito qui. Perfetto. A questo punto, semplicemente inserisco questo all'interno. Ecco qui. E guardate adesso che spettacolo. Ebbè, è un bel pezzo. Sicuramente se potete farlo, io vi consiglio di farlo. Anche perché penso che sia il più bel furgone pulmino e qualcosa di pazzesco. Guardate soltanto la vista panoramica che si ha. Ecco qui. Vi faccio vedere le foto dell'epoca. Guardate. Allora, qui ci dice che il Samba, questo, poteva essere ordinato con l'opzione M130, ovvero senza il tetto apribile nei finestrini panoramici, cioè questi. Questi qui. In questo modo il numero dei finestrini del furgone si riduceva a 15, anche se per il resto il veicolo era identico al Samba normale. Però a partire dal 1964, quando il Samba passò a 21 finestrini, i 15 finestrini dell'opzione M130 divennero 13. Quindi immaginatevi, 21 finestrini in totale. Qui invece ce ne dà addirittura 23 di finestrini. La caratteristica più notevole del Samba erano i suoi 23 finestrini, ma si distingueva anche per i tanti elementi cromati, incluso il logo e i coprimozzi. Poi aveva l'orologio elettrico. Ecco qui. Ci potevano stare 9 persone. Che bello. Pensate soltanto a quelle famiglie che se lo sono potuto permettere. Che spettacolo. Pesava 1070 kg a vuoto. Davano una velocità massima di 80 km all'ora, corrispondenti a 3300 giri al minuto. Però erano facilmente superabili in pianura, dato il rapporto di trasmissione più basso causato dalle ridotte necessarie a favorire la prestazione a pieno carico. Perché vedete, io ho anche le belle culine. Ogni tanto mi parte qualche... Mi manca qualche vocalo consonante e la perdo per strada. Bene. Negli anni successivi la potenza del motore aumentò passando a 30 cavalli nel 1954, poi a 34 cavalli nel 1960 e a 44 cavalli nel 1963, con un motore da 1500 cc. Bene. Il montaggio è così terminato. Ecco qui. Questi i primi due numeri. Che dirvi ragazzi che non vi abbia già detto? Vedremo poi se lo continuerò o meno, ma è più no che sì, ve lo dico. Vedremo. Io vi ringrazio del vostro preziosissimo tempo, un abbraccio, un saluto a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari, da me e il mio gatto Tigrato Michelangelo che adesso non è venuto, è tutto. E grazie a tutti coloro i quali lo salutano nei messaggi. Grazie ragazzi, ciao.